Rolando, prima volta che veniva rete dopo che sei partito, facciamo un'intervista semiseria, mancava la madrina, però mi ha dato un messaggio, la Sara Maestra. La devo solo ringraziare per quanto vicina e benaugurante è sempre, ha sempre parole splendide nei miei confronti, io la ricambio con un saluto perché è sempre stata vicinissima e questo mi fa piacere. Non c'era perché sta girando proprio un film qua a Varese sulla vita di Piero Chiara, il pretore di Curvio. Senti, com'è visto questo Varese? Bene, ho visto una squadra in palla, ho visto una squadra organizzata, una squadra che è già a buon punto e approfitto per fare un grosso in bocca al lupo, ma sono convinto che il Varese si prenderà delle soddisfazioni. Invece parliamo del tuo Catania, quest'anno per te i tifosi non sono mai contenti, hai fatto un'annata l'anno scorso strepitosa e quest'anno io so che gli amici ciciliani vogliono di più. Ma no, i nostri tifosi sono molto contenti invece di quello che abbiamo fatto e si augurano di rivivere tanti sogni, ma sono anche realisti e sanno che il nostro scudetto è sempre la salvezza. Sì, sì, va bene. Io ho detto che mi diverto quando vinco, però mi sono divertito lo stesso stasera perché lo spirito era giusto, avevamo voglia di far fatica, avevamo voglia di aiutarci, abbiamo preso coraggio strada facendo, i giovani sono stati molto, molto bravi. Credo che il plauso più grande debba essere riconosciuto a loro perché hanno dato brio, hanno dato vivacità, hanno avuto voglia di provare a mettere in difficoltà chi gioca in una categoria superiore alla nostra e credo che questo debba essere lo spirito che ci deve sempre accompagnare durante la settimana per poi essere pronti a metterlo in campo nelle gare ufficiali. E credo che sia stato anche quello che poi alla fine ha apprezzato di più il nostro pubblico. Lo so che presto adesso, però fammi una battuta sull'incontro di domenica col Vicenza dove questa partita conta veramente per il passaggio del turno in Coppa Italia. Ma noi vogliamo passare il turno, giochiamo davanti al nostro pubblico, c'è la possibilità di andare a mettere nelle gambe due partite ufficiali prima dell'esordio in un campo complicato contro una squadra di quelle che ha pubblicamente dichiarato di voler centrare i play-off e quindi l'obiettivo è quello di ripetere una prestazione simile a quella di stasera facendo di tutto per passare il turno, senza snobbare l'avversario, portandogli il massimo rispetto ma con la consapevolezza che è nelle nostre possibilità quella di vincere la partita. Mister, allora l'attaccante? L'attaccante domandatelo alla società, domandatelo al direttore. L'attaccante ormai lo sapete tutti che siamo orientati su Pavoletti ma c'è questa situazione di stallo dovuta alle difficoltà di far arrivare un attaccante in entrata per la società emiliana e quindi ha un pochettino frenato anche l'uscita di Pavoletti. Comunque tu prima feci l'ancendo ai giovani, io questa sera ho visto Luca Forte per fare un nome ma tutti gli altri hanno fatto una buona gara che comunque non fanno rimpiangere sicuramente i nomi blasonati. Ma no, hanno fatto benissimo, hanno fatto benissimo da Fiamolzi che tra l'altro domani deve andare a Coverciano con la nazionale di Serie B in un ruolo che magari non è neanche il suo perché l'ha utilizzato alto ha fatto veramente molto bene, ha fatto benissimo Barberis, hanno fatto benissimo anche i giovani che hanno giocato dall'inizio non solamente quelli che sono subentrati ma lo stesso Luca Forte è cresciuto tantissimo dopo le difficoltà della prima settimana il ragazzo è cresciuto molto e l'ho detto prima, con dei giovani così sarà un gran bello stimolo anche per i meno giovani perché non potranno mollare di una virgola perché i giovani saranno pronti per cercare di rubargli il posto. Una battuta scherzosa, qualcuno in tribuna diceva dall'altra parte abbiamo visto un Maran di Marito e somigliavi Non lo so, non lo so, non lo so, dai Dai che sia di buon auspicio mettiamola qui Presidente, non poteva andare meglio, esordio bagnato, esordio fortunato Esordio fortunato, primo tempo belli quadrati, secondo tempo hanno tirato fuori tutta la loro voglia di fare le caratteristiche di gioco, le qualità di gioco che hanno e quello che io dicevo, che ho detto a loro in due occasioni e che sto dicendo in questi due mesi la fame, la voglia di giocare, la voglia di giocarsela sempre fino all'ultimo minuto e il tenere sempre la testa alta, cioè non avere mai timore dell'avversario che è il Catania, voglio dire, questo Catania del grande Maran che è assolutamente una squadra di primissimo livello in Italia Insomma, prima parlavo con Sottili e l'allenatore, il mister, gli ho detto ma questa attaccante arriva? Ma spero, io mi auguro arrivi in fretta l'accordo verbale ce l'abbiamo, adesso sta soltanto al Sassuolo stringere i tempi stiamo aspettando, ogni giorno potrebbe essere il giorno giusto per chiudere l'accordo verbale da dieci giorni ce l'abbiamo Questo Varese dove può arrivare con l'oro e euro? Ma con l'oro e euro dove può arrivare? Beh, allora, sicuramente sempre giocarsela tutta quindi questo è lo spirito che io voglio poi se si giocherà per salire, se si combatterà per salire, tanto meglio non dimentichiamoci comunque l'obiettivo primario che è la salvezza e la permanenza in questa categoria però se si gioca con questa voglia, questa fame, questo appunto non risparmiarsi possiamo giocare per un campionato di tutto rispetto Credo che comunque tu hai già fatto un grosso miracolo perché al 6 di agosto avere lo stadio con così tanta gente e non per una serata così raffosa poi che è venuta fuori un temporale però oggi ha un buon risultato Sì, io non finirò mai di ringraziare il sostegno che stiamo avendo in questi due mesi anche perché, lo sapete, mi è capitato tutto dall'oggi al domani e quindi avere questo calore da parte della città, della tifoseria avere questo sostegno per me è molto importante perché mi fa fare quel metro in più rispetto a quello che sono le mie forze quindi è lo stimolo per far bene Potrebbe essere in buon auspicio l'intervista dopo che facciamo con Vicenza che magari arriva l'uomo desiderato Ma magari, ma magari, me lo auguro Grazie